Sì, io ho il disavanzo nel bilancio della regione, però mamma, io ho detto che bisogna che ci facciamo carico dei malati di celiachia, sai chi sono? Sono quelli che sono allergici al glutine, che non possono mangiare la pasta, il pane, come noi. Mamma, in farmacia un chilo di pane costa 10 euro, un chilo di pasta costa 12 euro senza glutine, per una famiglia con un solo stipendio che ha due figli malati di celiachia, significa andare verso la povertà e poi ci siamo fatti carico dei malati di SLA e ci vogliamo ora fare carico dei malati di Alzheimer, perché è facile per Berlusconi dire a me che mi frega, tagliare, 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 si taglia la vita dei più poveri, si taglia la vita di chi ha bisogno.